Alla Dozon Films siamo stati testimoni delle vostre storie. Abbiamo dato vita alle vostre idee. Rendiamo eterni i momenti più preziosi. Ogni video è stato un regalo, un'emozione condivisa. Guardiamo avanti, verso nuove sfide. Continueremo a sognare, a creare, a ispirare, perché la nostra passione è infinita. Oggi festeggiamo dieci anni di impegno e successo. Grazie a voi, abbiamo raggiunto traguardi inimmaginabili. Ma sappiamo che il nostro viaggio non è ancora terminato. Dieci anni di emozioni. Dieci anni di storia. Siamo pronti per i prossimi dieci, per lasciare un'impronta indelebile. Grazie per averci accompagnato in questo straordinario viaggio. E per i prossimi dieci anni, saremo qui, pronti a scrivere nuovi capitoli. Unisciti a noi, perché le storie più belle sono ancora da raccontare. Dozon Films. Dieci anni. Divisioni. Unisciti a noi, per i prossimi dieci anni. Unisciti a noi, per i prossimi dieci anni. Unisciti a noi, per i prossimi dieci anni.